Un nuovo virus animale si aggira per l'Europa, si chiama Schmallenberg, dal nome della località tedesca in cui è stato isolato per la prima volta. Colpisce ovini e bovini ed ora è stato segnalato anche in Francia, dopo la Germania, il Belgio, i Paesi Bassi e la Gran Bretagna. Mosca ha già sospeso le importazioni di bestia molandese.